Quello che dicono di lei è vero? Non la conosco. Sono quattro giorni per salutarsi. Facciamo solo che passino. Signora, sono Rebecca, la Stuart. L'abbiamo sistemata in un'altra cabina. Lei ha perso l'affidamento del figlio. Grazie. Ci deve essere qualcosa di seriamente disturbato. Saluta tua madre, Ken. Dov'è mio figlio? Non voglio restare qui. Viniamo! Adesso, non so se non so. Non so se non so se non so. Un giorno sarai libero di fare tutto ciò che vorrai. Permesso. Aiuto! Non è venuta! Non può fare cose del genere in barca, signora. Non mi potete impedire di cenare insieme a mio figlio. Ken. Non credere a quello che ti è stato detto, Ken Zavro. Non è vero. Un'altra. Ora è tornata ilynato Non è conoscoffino. Non mi potete να capire. È libero.